buongiorno lupacchiotti il nostro amico francesco poliziotto sulle volanti ci ha raccontato questa storia e siccome ci è piaciuta molto ve la vogliamo raccontare anche perché è una storia breve ed essenziale come piace a noi allora la novella più corta e più bella del mondo c'era una volta un ragazzo che chiese a una ragazza mi vuoi sposare e la ragazza no e allora il ragazzo visse per sempre felice e contento guidando motociclette giocando a calcetto con gli amici alla playstation bevendo birra e vodka aveva un sacco di soldi nel conto corrente bancario lasciava la tavoletta del bagno alzata ruttava scorreggiava quando gli pareva fine della storia chi vuole essere lieto sia un bacione ciao